Ciao a tutti ragazzi, Davide oggi per voi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo della diciottesima giornata di Serie A, in particolar modo di Napoli-Torino 2-1. Prima di parlare della partita, vorrei fare una piccola premessa. In questi video della seconda parte di campionato, oltre a fare l'analisi di una partita con le relative pagelle, dirò anche la mia formazione ideale della giornata. Comunque, Napoli-Torino 2-1. Che partita è stata? Una partita bellissima nel primo tempo. Napoli che ha iniziato molto bene e che ha avuto tre occasioni nei primi dieci minuti. Due con Cajéron e una con Higuain. E che al quindicesimo è passato in vantaggio con Insigne. Una bella azione tutta di prima con Higuain, Cajéron e Insigne che si sono scambiati la palla. L'azione si è conclusa con un pallonetto bellissimo di Insigne che ha scavalcato Padelli. A questo punto il Napoli ha continuato a fare la partita giocando il suo solito calcio. Un pressing asfissiante, una difesa alta. Un pallone che viaggia a velocità molto alta. E anche belle cose quando la palla arrivava in avanti. Soprattutto quando duettavano Higuain e Insigne. Il Toro comunque non rinuncia a giocare a calcio. E ha anche un'ottima occasione con Quagliarello. Un colpo di testa che viene salvato da Pepe Reina. Toro che dopo pochi minuti conquista un calcio di rigore per un fallo di Gulano su Bruno Peres. Dal dischetto si presenta Quagliarella che segna il gol dell'1-1. A questo punto il Toro sembra più intenzionato a vincere la partita. Ma è il Napoli a segnare ancora. Segna questa volta Amsic che raccoglie un filtrante di Insigne e trafigge Padelli. Nel secondo tempo i ritmi calano abbastanza. Il Napoli fa più la partita ma non riesce ad essere così fluido come nel primo tempo. Una buona occasione con Insigne. Una punizione che si stampa sulla traversa. Il Toro invece si difende in modo abbastanza ordinato ma non crea grossi pericoli. Negli ultimi minuti poi il Napoli è un po' calato fisicamente ma è comunque riuscito a stringere dente e portare a casa una vittoria molto importante. Passando alle pagelle direi una buona prestazione del Napoli. Un primo tempo ottimo a tratti anche spettacolare. Nel secondo tempo è un po' calato negli ultimi 20 minuti ma ha comunque dimostrato di avere carattere, di sapere soffrire, sebbene non abbia rischiato tantissimo, e di portare a casa la vittoria. Passando alle pagelle ho dato 6,5 a Pepe Reina, 7 a Isai, 6 a Raul Albiol, 5,5 a Goulam che ha causato il rigore del Torino, 5,5 a David Lopez un po' troppo impreciso. Positiva la prestazione di Valdifiori, 6,5, bene Amsic autore del secondo gol, 7, 7 anche a Cajekon. Cajekon secondo me uno dei migliori in campo del Napoli che ha partecipato all'azione del primo gol, è stato pericoloso nei primi minuti e poi ha dato anche un ottimo contributo alla squadra. 6,5 a Higuain, 7,5 Insigne, Insigne migliori in campo, un gol, un assist, tante belle cose quando gioca e ottimi duetti con i compagni, Higuain in primis, subentrati Mertens 6, Allan e Cialoba senza voto, l'allenatore Sarri invece 6,5. Passando al Torino direi una prestazione buona, un ottimo primo tempo dove la squadra oltre a difendersi non ha neanche rinunciato ad attaccare, è stata pericolosa in una circostanza, poi ha anche trovato il gol. Nel secondo tempo è meno pericoloso ma secondo me il Torino è calato meno fisicamente rispetto al Napoli, cioè abbiamo visto più un calo fisico del Napoli che non un calo fisico del Torino. Passando alle pagelle comunque 6 a Padelli, 5 a Bovo che non ha chiuso su Amsic al momento del gol del 2-1, 6,5 Glick uno dei migliori in campo che ha complicato e tanto la vita a Higuain, 6 meno Moretti, 6,5 Bruno Peres che si è guadagnato il rigor che poi ha fatto pareggiare momentaneamente Granata, 6,5 Baselli, 6 meno gli altri due centrocampisti Acquai Vives, 6 Molinaro, Quagliarella 7, gol e bel colpo di testa qualche minuto prima però ha parato bene da Pepe Reina, negativa invece la prestazione di Belotti, 5,5 ha fatto poco ma quel poco che ha fatto non è stato decisivo, Maxi Lopez 6, Zappacosta 6, Benassi senza voto, allenatore Ventura 6,5. Comunque come ho già detto vittoria del Napoli importante che lo tiene in scia per la lotta a Scudetto, hanno vinto quasi tutte, l'Inter ha vinto 1-0 a Empoli, la Juve 3-0 sul Verona, la Fiorentina 3-1 sul campo del Palermo, ha rallentato invece ancora la Roma che ha pareggiato 3-3 sul campo del Chievo, il Milan continua nelle sue infinite oscillazioni perdendo 1-0 in casa col Bologna, nella prima partita dell'anno invece abbiamo visto la Samp vincere per 3-2 contro il Genoa nel derby dell'Allanterno, una bella partita, 0-0 tra Lazio e Carpi, 2-2 tra Sassuolo e Forsinone, vince invece l'Udinese 2-1 sull'Atalanta. Ma ora passiamo alla formazione della diciottesima giornata. In porta ho messo Mirante che è stato uno dei protagonisti della vittoria del Bologna a San Siro, ha salvato la sua squadra in un paio di circostanze nel primo tempo, in difese invece Bruno Peres e Esai sulle fasce, centrali Glick e Bonucci, centrocampo a tre con Borja Valero Regista e Soriano Ilicic Mezzali, Soriano è stato decisivo nel derby, Ilicic invece è stato il protagonista della vittoria della Fiorentina a Palermo. In attacco invece ho messo Cassano, anche lui uno dei protagonisti della vittoria della Samp nel derby, Pavoletti punta centrale che ha rivitalizzato il Genoa nell'ultima mezz'ora e poi ho messo Insigne, protagonista della vittoria di ieri del Napoli. Se vi è piaciuto questo video io vi invito a lasciare un commento, a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a iscrivervi alla pagina Facebook. Per oggi è tutto, ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!